Non basta ricordare, serve impegnarsi e agire. Questo il messaggio lanciato dal Vescovo di Gubbio, Luciano Paulucci Bedini, durante l'Omelia nella messa al Mausoleo, promossa dall'Associazione 40 Martiri Ollus in occasione della giornata della memoria che commemora in tutto il mondo le vittime dell'Olocausto. I testimoni di ciò che è accaduto stanno venendo meno, ha ricordato il Vescovo, così la paura di poter dimenticare è tanta e sarebbe una grande sconfitta per l'intera umanità. Paulucci Bedini ha ricordato come la senatice Segre, superstita e testimone dello Shoah, abbia dichiarato come il rischio oggi è che le persone siano stufe di sentir parlare del genocidio nazista e che generi fastidio soprattutto nelle giovani generazioni. Per questo abbiamo tutti noi oggi una grande responsabilità, prosegue il Presule. Da un lato dobbiamo prendere in mano il testimone di coloro che hanno vissuto questa tragedia, seguendo al contempo il messaggio del Vangelo, opponendo il bene al male ed educando saggiamenti i giovani. Colma invece l'aula magna Luciano Fabio Stirati del liceo classico Mazzatinti, con gli studenti del biennio che hanno ascoltato la fascinosa quanto struggente narrazione del direttore di Umbria TV Giacomo Marinelli Andreoli, autore del libro Nel segno dei padri, la storia di Guglielmine e Peter. Un episodio che ha tragicamente segnato la storia della città di Gubbio, una storia di riconciliazione a distanza di 60 anni dall'occupazione nazista in Umbria, una vicenda di grande attualità per il messaggio universale che esprime attraverso le parole e l'esempio dei suoi protagonisti, affrontata dal giornalista e scrittore Eugubino, in una prospettiva originale con documenti, audio e video, per un delicato e sentito momento di riflessione da parte dei ragazzi presenti in aula. A Gualdo Tadino invece l'amministrazione comunale ha apposto due pietre di inciampo in piazza sopra un muro, nella pavimentazione che raffigura la Rosa dei Venti, dove è situato un luogo della memoria che raccoglie tutti i nomi dei gualdesi morti nei campi di concentramento nazisti. Così il sindaco Massimiliano Presciutti, la giunta comunale, l'autorità militare, gli studenti delle scuole gualdesi con il parroco Don Franco Berrettini che ha benedetto le pietre, hanno ricordato Francesco Stella e Antonio Provvedi nel luogo della memoria che raccoglie proprio i nomi dei gualdesi morti nei campi di concentramento. Stella Perì in territorio balcanico provvedi invece in Algeria, un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale a perenne memoria dei cittadini gualdesi morti nei campi di sterminio. La storia ci serve per riflettere anche sul presente, ricorda l'assessore alla cultura Barbara Bucari. La brigata russa che liberò il campo di Auschwitz si chiamava Primo Fronte Ucraino, un simbolo in più per condannare anche lo spargimento di sangue e le vittime della guerra di oggi.